Durante la sua ultima esibizione a Francavilla Sfera e Basta ha rischiato un'aggressione da parte di una ragazza e del pubblico E non solo perché una ragazza fra le prime figlie del concerto Si stava sentendo male e stava rischiamo di svenire in mezzo alla folla E visto quello che è successo anche in passato con Corinaldo Sfera ha deciso fondamentalmente di abbandonare il palco Per poi dopo aver risolto il problema della ragazza Tornare incazzato e fare la romanzina alla sicurezza davanti a tutto il pubblico Non aggiungo altro ma vi lascio filmati Noi ci vediamo un prossimo video in linea allo studio Ma vuoi sapere lavorando che stai facendo? Nessuno che si muove Sfera il cappello Sfera il cappello Sfera il cappello Non state qua a guardare il cielo per favore Sfera Il cappello blu Mi piace della sicurezza nessuno che si muove Sfera il cappello Sfera il cappello blu